Allora, stamattina mia moglie mi ha chiesto di accompagnarla al lavoro perché oggi inizia che le ferie sono finite e l'accompagno perché di solito lei va a piedi ma sta piovendo a dirotto quindi se no altrimenti si sarebbe bagnata tutta e adesso vi faccio vedere dalla macchina come piove Aspettate un attimo Guardate l'orario sono le 7.24 21 gradi Qua sul finestrino non si riesce a vedere ma vedete l'effetto guardate l'acqua che scende guardate quanta le sta facendo Grazie a tutti Grazie a tutti